un po' di casino ragazzi fate casino è un bar di merda no guardavo se eri tutto in regola, tutto a posto è tutto in regola? tutto in regola, vieni un po' qua dai dimmi basta se Massimo e Alessandro riescono a fare il record si che ce la fanno battiamo il record del Mojito? il Mojito più grande del mondo riusciremo a battere il record del Mojito? senz'altro, sarà un successone riusciranno i nostri amici a battere il record del Mojito? si, Aless lo fa sicuro, non ho dubbi sono partito a posto sicuro perchè ce la fa sicuro ce la fai Alessandro? ce la fai Alessandro? ce la fai Alessandro? io ero molto emozionato quando ho letto l'articolo sul secolo mi sono proprio commosso mi metto il mio amico di Ronco qua entra nel Guinness, forse, forse entra nel Guinness dei primati a lavagna ce la fai Alessandro? ce la fai Alessandro? dobbiamo bercelo tutto si paga anche ah si paga si paga si paga poco si paga poco io sono un poco fotogenico però ce la facciamo sono sicuro che ce la facciamo abbiamo stimato di bere 500 litri a testa più mese abbiamo fatto quanti chilometri? parecchi cosa dite ce la facciamo a battere il record? ah questo non lo so io sono uno che non beve qua vabbè ma poi se mai lo votiamo nel fiume no nel fiume no peccato magari qualcuno che beve bene che venga qua a lavagna domenica quando c'è? oh stasera ah stasera? si dopo vabbè guardiamo magari qualcuno che beve 2100 litri 2100 litri ho visto va bene grazie salve buonasera lei ci dice qualcosa? ce la facciamo a battere il record? il bicchiere più grande di mojito del mondo? ce la facciamo? ce la facciamo? ce la facciamo a battere il record? ce la facciamo ce la facciamo riusciranno i nostri amici a battere il record del mondo? eh? il record del mojito più grande del mondo? speriamo è probabile speriamo ma ecco lì sì 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 ok grazie speriamo vale? massimo alessandro riusciranno a battere il record del mojito più grande del mondo? sicuramente sì non sappiamo dove lo batteranno in luogo esatto però sicuramente ce la faranno ci sono sicuro proprio ma lui è l'assaggiatore eh? così mi hanno detto ma non lo so neanche bene io se si fidano ma ce la faranno i nostri ragazzi a battere il record? noi ci crediamo dai sì siamo ottimisti